Gian Piero, benvenuto a Pordenone, benvenuto a una pagina che cambia la vita. Questa sera ci diletterai con una lezione tratta da Bulgakov, dal maestro e Margherita e grazie di aver accettato questa iniziativa che almeno nell'idea che l'ha guidata nella sua articolazione voleva riportare la lettura al centro dell'attenzione, una pratica spesso ritenuta ingenua, data per scontata ma che in realtà presuppone una metodologia, una conoscenza sia concettuale che appunto pratica che andrebbe recuperata e che anche a lezione, perfino nelle università, è sempre meno frequentata. Non so cosa pensi tu a riguardo. Intanto ringrazio anch'io per l'invito, l'occasione, per l'aperitivo e effettivamente sì, si legge sempre meno anche in università anche chi insegna letteratura tende per i tempi che si sono compressi per le occasioni di incontro con gli studenti, per i numeri stessi degli studenti che sono esorbitanti a non leggere più insieme. Quindi il rapporto col testo si perde sempre e più si privilegiano riassunti, quelli che una volta erano i bigini cosiddetti oppure i capitoli tristemente, i capitoli dei manuali. Quindi leggere, dedicare una serata alla condivisione di una pagina mi sembra un'iniziativa straordinaria e vi ringrazio davvero per l'occasione che avete ridato a me di rileggere queste pagine quelle di Bulgakov nella Fattispecie e Maestro Margherita che è uno dei testi che io considero fondamentali per la letteratura russa del Novecento e in questa occasione ho riscoperto quanto prezioso sia rileggerlo a distanza di mesi o di anni con uno spirito diverso, pensando a un pubblico diverso a un'occasione come questa e mi si sono riaperte prospettive che sono impaziente di condividere questa sera con te e con tutti gli altri. Questo è l'anno internazionale della chimica e a prima vista ad alcuni poteva sembrare strano avvicinare a un'iniziativa Scienze Arte Ambiente tutta orientata a rendere omaggio alla chimica come è giusto fare un'iniziativa interna come una pagina che cambia la vita che in realtà appunto pone la lettura al centro ma la mia idea era che la chimica in realtà oltre a una disciplina scientifica in senso stretto era anche ed è anche una metodologia di interpretazione del mondo della natura e anche di un testo perché un testo è un articolato intreccio di segni, significati, di rimandi simbolici che andrebbe indagato anche lui per elemento andrebbe anche lui smontato e rimontato nelle sue unità prime per ricomporne il significato e questo potrebbe spostare anche l'attenzione su un altro tipo di osservazioni assumendo proprio la lettura come una declinazione del metodo chimico cioè che i testi possono essere tanti e lo dico a te che tanti testi hai affrontato in maniera trasversale e anche culturalmente per esempio ti faccio un caso che potrebbe essere un testo una città con le sue vie, con i suoi palazzi, con le sue vetrine, con i suoi segnali e con quelle pratiche, con quelle etiche in senso etimologico che la sua stessa struttura va disegnando nelle vite dei suoi protagonisti, dei suoi cittadini ti sembra azzardata questa lettura oppure? Mi sembra uno dei testi più straordinari a cui si possa pensare se parlavi prima di chimica ho visto i bei manifesti tabelloni con il sistema periodico degli elementi la città è un sistema e effettivamente i testi che la compongono danno vita ad un macro testo e è estremamente affascinante oltre che interessante è scomporlo quindi farlo a pezzi decostruirlo se vogliamo usare un termine che è stato di moda e poi provare a rimetterlo insieme da punti di vista diversi quindi le immagini che compongono il testo in una città i nomi delle vie i toponimi stili architettonici un po' come in uno spaccato di roccia andare a cercare le componenti le epoche, le ere che si sono susseguite e hanno formato questo certo testo penso anche al concetto di palinsesto una città, il palinsesto da cui si raschiava un primo testo per scrivere un secondo però del primo testo restava comunque una traccia e la città, dal mio punto di vista è un palinsesto straordinario perché non tutto viene volutamente o inconsapevolmente cancellato ma accanto a nuove costruzioni a nuove pratiche dei pedoni, degli automobilisti del pedone urbano del turista o di mille altre persone restano tracce di ciò che è successo in precedenza quindi sicuramente sono più che d'accordo a leggere una città tra l'altro se vogliamo tornare all'autore di cui si parlerà questa sera La Mosca di Bulgakov è un testo straordinario nel Maestro e Margherita leggere la città potrebbe essere una chiave di lettura per attraversare il testo del romanzo il testo letterario che è composto anche dai mille testi che la città offre e propone e poi se posso permettermi di aggiungere la città è stato anche un testo assumiamo ormai questa sorta di equazione attraverso cui si sono lette e rilette le pratiche della modernità faccio due casi molto celibri anche e molto noti tutto sommato la Parigi di Baudelaire poi riletta anche da Benjamin è un caso in cui la modernità tutta si rilegge nelle vie e nei dettagli di una città, non trovi? Sicuramente, visto che hai citato i due grandi inseriamo anche la figura del flaneur perché io parlavo di pedone urbano genericamente prima ma mi hai fornito l'occasione andare a studiare, a indagare se esista un flaneur oggi quali siano le figure che possono aver raccolto l'eredità del flaneur parigino e chi oggi si può permettere di andare a zonzo ma con l'occhio critico, indagatore che sta un po' fra il curioso e il detective e procura anche una critica sociale quindi guarda con un occhio intelligente che non è fatto solo di curiosità morbosa esiste ancora oggi chi potrebbe essere il flaneur nelle nostre metropoli contemporanee sicuramente esiste il barbone lo sfaccendato il vagabondo questa sera si parlerà sempre rifacendosi al romanzo di Bulgakov della figura del vagabondo se pensiamo alla Russia il vagabondo colui che percorreva oltranza la terra russa senza avere una meta è una figura fondamentale e Bulgakov lo riprende oggi è sempre più difficile permettersi di fare il vagabondo ma questi illustri antenati sicuramente hanno lasciato le loro tracce nel palinsesto della città quindi poniamoci il problema e proviamo a scoprirlo probabilmente tutti questi sono segni e spunti per ritornare alla lettura non come un'esperienza scontata e acquisita una volta che si sono assimilate le nozioni fondamentali per leggere lettere poste l'una vicino all'altra ma un'esperienza molto più profonda di interpretazione della realtà che può cominciare da un testo ma dilatarsi su una città e chissà su quanti altri testi ed ipertesti io ti ringrazio per questa rapida e chiacchierata e ci si vede tra poco salute